Il premio Solidarietà Città di Taranto, dedicato per il 2023 a sport e inclusione, è stato presentato nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. L'iniziativa si svolgerà a Taranto il prossimo 11 dicembre nel Teatro Comunale Fusco ed è organizzata dal Comune di Taranto con la stretta collaborazione della Guardia di Finanza, nelle sue articolazioni del Comando Regionale Puglia, della Legione Allievi di Bari e del Comando Provinciale di Taranto. Quest'anno saranno premiate le personalità che si sono distinte e iniziative solidali che hanno favorito l'inclusione nel mondo dello sport. La solidarietà abbraccia tanti temi e tanti campi. Quest'anno abbiamo voluto iniziare nell'ambito sportivo e quindi abbiamo intitolato l'evento Sport e Inclusione. Sarà una bella occasione per dare un riconoscimento a chi si è distinto nel campo della solidarietà e soprattutto nel campo dello sport a 360 gradi, sia nell'ambito dell'associazionismo, sia nell'ambito scolastico, ma anche nell'ambito delle professioni. In senso lato è anche la possibilità per la Guardia di Finanza di Taranto di impegnarsi in un'attività benefica, di interpretare le esigenze del territorio, di poter contribuire ad una causa nobile come quella dell'inclusione delle persone disagiate e bisognevoli nel tessuto sociale e locale attraverso manifestazioni sportive. Noi siamo orgogliosi di partecipare a questa manifestazione nella veste di co-organizzatori e ringraziamo sentitamente l'amministrazione comunale tarantina per averci dato questa possibilità. Grazie a tutti.